Questa è la scatola del prodotto che contiene il lettone MP3, il manuale anche in italiano, l'antenna estraibile per la radio, il cavo di alimentazione, il di ricarica e delle cuffie. Il prodotto si presenta totalmente in metallo, molto solito, davvero ben fatto. Per quanto piccolissimo il volume è piuttosto alto. Abbiamo poi varie funzioni per guardare piccoli filmati, ascoltare musica, ascoltare la radio e per utilizzare il tutto come semplice altoparlante a bluetooth. Vedete così, ho spostato l'interruttore, ora potremo collegare il cellulare e ascoltare la musica. Qui si regola il volume e questo è un selettore per le tracce. Fantastico!